Pronta per la prova costume! C'è Dietidea, la dieta del riso del professor Sorrentino e Riso Scotti. È ipocalorica, bilanciata e detox. Ti aiuterà a perdere peso e depurarti. Un programma alimentare completo di 7 giorni per lui e per lei. Con tisane e integratori. Da consumare anche al lavoro. Dietidea, non devi pesare niente, non devi pensare a niente. Funziona! Acquistala su dietidea.com e nelle migliori farmacie. Grazie!